Io mi chiamo Sara Tozon, sono un'educatrice e una socia fondatrice della cooperativa Semi di Senape. Remix è un centro di riciclo creativo ed educazione alla sostenibilità, è nato nel 2015, è un progetto che ha mutuato la sua idea dai centri Remida di Reggio Children e che abbiamo poi portato qui in Alessandria grazie a una collaborazione con il Comune di Alessandria, con la Fondazione Social che ha finanziato il progetto e vari altri partner del territorio. Ed è uno spazio in cui innanzitutto si fa educazione alla sostenibilità e quindi si invitano scuole di ogni ordine grado, dai bambini più piccoli agli adulti agli adolescenti e varie realtà a parlare appunto di sostenibilità, di riciclo creativo e di tutto quello che è ruato intorno appunto al riciclo creativo e all'educazione alla sostenibilità. E poi ha uno spazio in cui vengono portati tutti i materiali di scarto provenienti da aziende del territorio di tutti i tipi. Ovviamente il nostro territorio offre molta plastica ma si parla anche di carta, stoffa, legno di tutti i tipi e questi materiali sono a disposizione delle scuole per essere riutilizzati. Quindi scuole, in realtà scuole, associazioni, chiunque voglia usare questi materiali che inizialmente erano dedicati a essere buttati perché sono materiali di scarto, di lavorazione o campionari, errori di produzione, invece in questo modo possono prendere nuova vita ed essere riutilizzati per tante cose perché poi essendo materiali molto neutri possono essere utilizzati sia per questioni legate alla didattica, scienze, matematica, italiano, tutte le materie che ci vengono in mente ma anche all'arte, la creatività, un po' tutto. Oggi a Remix lavorano due educatrici della nostra cooperativa, tre volontari del servizio civile e poi ruotano sul centro altre persone che si occupano di fare laboratori, tenere incontri, corsi di formazione per adulti, educatori, insegnanti, quindi varie persone ruotano poi intorno al centro, però diciamo due, Giulia e Sofia, sono le educatrici che ci lavorano in questo momento. Sicuramente è uno spazio che vuole portare in maniera importante la riflessione su che cos'è il riciclo creativo e l'educazione alla sostenibilità, quindi raccontare che esistono dei materiali che vengono buttati e sono tantissimi e che possono essere utilizzati, raccontare che esiste la possibilità di vivere l'educazione alla sostenibilità in maniera giocosa, divertente e creativa e sicuramente la lotta allo spreco e anche l'educazione su questi temi, la sensibilizzazione su questi temi, appunto parlando dei bambini ma anche degli adulti, perché poi è un tema che sicuramente viviamo un po' tutti. Grazie per la visione!